La quattordicesima edizione della conferenza nazionale di statistica che si terrà il 30 novembre e il primo dicembre affronterà tra i vari temi quello dell'uscita dalla crisi economica e delle informazioni dei dati necessari per valutare in modo efficace l'evoluzione dell'economia reale e quindi di conseguenza definire correttamente le misure di politica economica per la ripresa. La sessione presieduta da Valentina Meliciani dell'Università Luis Guido Carli si concentrerà sui cambiamenti strutturali indotti dalla digitalizzazione in particolare per le imprese che si trovano ad affrontare dei cambiamenti organizzativi molto rilevanti per stare al passo con la trasformazione digitale e cercare di non perdere posizioni competitive. In questa sessione si analizza prevalentemente il punto di vista delle imprese e in particolare nei paper di Marco Grazi dell'Università Cattolica si valuta l'impatto dell'automazione sulle disuguaglianze salariali e di genere a livello di impresa. Anche nel lavoro di Giulio Perani dell'Istat che sottolinea la necessità di sviluppare evidenze empiriche micro fondate quindi basate su dati microeconomici per misurare correttamente la performance delle imprese. Infine anche nel paper di Francesco Nucci dell'Università La Sapienza il quale propone un'analisi dell'impatto delle tecnologie digitali sulla crescita della produttività a livello di impresa. Infine l'ultimo lavoro assume invece la prospettiva dal lato dei consumatori di Fabrizio Arosio dell'Istat il quale invece cerca di cogliere e di valutare l'impatto della digitalizzazione sui modelli di consumo del turismo e della cultura sia analizzando l'impatto del covid a livello aggregato sia prendendo una prospettiva territoriale.